Beppe Grillo ha liquidato Giuseppe Conte, era pressoché inevitabile, Giuseppe Conte è una brava persona, ma per il Movimento 5 Stelle, era un po' un parvenu, cioè uno venuto da fuori, era un potente docente universitario, non era neanche iscritto al Movimento Pentastellato, venne cooptato da un potente pentastellato che qualche anno fa era ministro di giustizia, non mi ricordo come si chiama, un potente pentastellato che è stato ministro di giustizia, questo potente pentastellato, ministro di giustizia, conosceva il professore Giuseppe Conte, perché magari forse era stato il suo professore all'università, allora questo potente pentastellato che è stato ministro di giustizia l'ha cooptato, ha preso Giuseppe Conte e lo ha fatto entrare dentro il Movimento, senza che Giuseppe Conte fosse iscritto al Movimento, e poi è stato proiettato a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte non ha mai fatto, non ha mai fatto diciamo così propaganda per il Movimento Pentastellato, non è che ha sudato, ha sudato per entrare in Parlamento, no, si è trovato proiettato dalla cattedra universitaria a Palazzo Chigi, grazie alla cooptazione da parte di un potente pentastellato che è stato anche ministro di giustizia, mi dispiace ora non ricordo il nome, perché adesso come ministro di giustizia c'è la potentissima Cartabia, Cartabia che è anche stata, è presidente della corte costituzionale, si chiama Cartabia, è una bella donna, era un po' un parvenuto Giuseppe Conte, era un intellettuale, un intellettuale, non aveva niente in comune con Beppe Grillo, comico, impetuoso, comito impetuoso, Giuseppe Conte ripeto era un po' un alieno, per tutti coloro che hanno la mentalità come quella di Giuseppe Grillo che è il fondatore del Movimento, l'ha fondato nel 2009, l'ha fondato nel 2009, è il Movimento Beppe Grillo, io conosco un bel libricino, un bel libricino che uscì per l'appunto nel 2009, è un bel libricino intitolato chi ha paura di Beppe Grillo, punto di domanda, e in fondo a questo libricino c'è la postfazione di Marco Pannella, perché io ho sempre detto che i pentastellati sono i figli di Marco Pannella, volenti o nolenti i pentastellati sono i figli di Marco Pannella, adesso che succede? Beppe Grillo l'ha ripudiato questo figlio, perché non è figlio suo, Giuseppe Conte non è figlio genetico di Beppe Grillo, è stato un figlio adottivo e Beppe Grillo se l'è trovato in casa senza neanche volerlo, in un primo momento gli ha voluto bene, ma poi ha detto ma non è figlio del sangue mio, non è figlio del sangue mio, ha fatto certe considerazioni che io poi ho spiegato bene in questa mia opera storico-mitologica e adesso vediamo che può succedere, che può succedere, ma che può succedere a questo fondo, vediamo. O Giuseppe Conte in braccia, in bocca, in bocca alla strada della vendetta, la strada della vendetta che vuol dire che si mette con i fuoriusciti pentastellati, i fuoriusciti sono quelli che ci hanno avuto da dire col movimento anche per via dell'argento, della argepre, via della pecunia, pecunia non olet, homo sine pecunia i mago mortis, o Giuseppe Conte o prende, o Giuseppe Conte si rassegna e torna a fare il docente universitario, cioè si mette la coda fra le gambe e torna a fare il docente universitario, oppure in bocca alla strada della vendetta, la strada della vendetta vuol dire che si mette con i fuoriusciti pentastellati, si mette con la piattaforma Rousseau che c'ha il dente avvelenato, si mette con Casaleggio che c'ha il dente avvelenato con Beppe Grillo e poi si mette pure con Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista che io lo definisco il ceghevara italiano perché Alessandro Di Battista vuole tanto bene al popolo, però se la fa con i potenti perché ha pubblicato Alessandro Di Battista con tante case editrici che ci sono in Italia, Alessandro Di Battista ha pubblicato due libri per Rizzoli e Mondadori, Mondadori, Rizzoli e Sola, beh che sono da Silvio Berlusconi, Mediaset, Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, per cui Alessandro Di Battista tira i diritti d'autore da Silvio Berlusconi. Allora vediamo come andrà a finire la situazione. o Giuseppe Conti si mette la coda fra le gambe e torna a fare il docente universitario mi pare di diritto civile, diritto azionario, non lo so, tenendo nel proprio curriculum professionale di essere stato a Palazzo Ligi, capo del governo, oppure imbocca la strada della vendetta cioè fonda un nuovo partito con i fuoriusciti pentastrellati, che sono un bel numeretto con Rousseau, Casaleggio e con Alessandro Di Battista Io ovviamente non so quale strada imboccherà Giuseppe Conti, certo che se io fossi al posto di Giuseppe Conti andrei subito in libreria, comprerei una copia di questa opera storico-mitologica e accetterei il consiglio di Serafino Massoni, che è quello di tornare a fare il docente universitario godendosi il fatto di essere stato capo del governo per un lungo periodo non so se ha superato i mille giorni di Matteo Renzi, fatelo voi il conto perché Matteo Renzi ci tiene ad essere stato a Palazzo Chici per mille giorni ci tiene tanto Matteo Renzi non so se Giuseppe Conti ha superato Matteo Renzi nella sua permanenza a Palazzo Grigi in ogni modo, cari amici, la conclusione migliore è sempre la solita andare in libreria e comprare una copia della stipe del serpente per cui a Beppe Grillo, a Marco Pannella, a Giuseppe Conti e a tutti voi tanti cari saluti dalla stipe del serpente